Prima di salutarvi vogliamo lasciarvi con il nostro brano classico natalizio Gingon Bell e allora invitiamo i bambini della classe ritmica ad unirsi a noi. Ve li presento, sono Esther, Gaia, Pietro, Ludovico, Riccardo, Giovanni, Emma e Edoardo. Sono quasi tutti i fratellini degli annini dell'orchestra che si stanno preparando per l'approccio allo strumento come a loro volta avevano fatto i più grandi e naturalmente sono accompagnati dalle loro mamme che sono fondamentali in questo percorso. Il prossimo anno ci auguriamo di vederli suonare assieme a noi ma per adesso ci accompagneranno con un piccolo strumento natalizio. Gingon Bell Gingon Bell Gingon Bell Gingon Bell Grazie 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 Grazie